Un benvenuto da parte di Biagio Mannino. L'Indonesia è uno stato importante, uno stato strategico, uno stato che ha visto nel post 2020 delle grandi difficoltà nell'ambito soprattutto interno per quanto riguarda il settore del lavoro. Un mondo del lavoro di fatto definito incerto e che ha richiesto da parte del governo indonesiano degli interventi di ristrutturazione ma che non sono piaciuti affatto al contesto sindacale andando ad attribuire delle potenziali conseguenze nell'ambito degli interessi dell'Indonesia stessa ritenendo che avrebbero favorito maggiormente gli interessi di realtà estere e non di quelle interne ma contemporaneamente l'incertezza del mondo del lavoro nell'Indonesia rappresenta anche un motivo di allontanamento per gli investimenti delle multinazionali straniere. Insomma problemi che si sono visti nell'arco di questi due anni e che contemporaneamente si sono accompagnati a un forte interesse proprio per la posizione strategica che l'Indonesia ricopre in un contesto determinante negli assetti della geopolitica internazionale. E da qui una politica estera che tende a guardare un po' in tutte le direzioni e a tenersi anche sostanzialmente lontana da tutte le direzioni. L'elemento maggiormente preoccupante è rappresentato dalla presenza della repubblica popolare cinese sempre più pressante nel contesto del mar cinese meridionale e nell'oceano pacifico e che pone l'attenzione proprio sull'Indonesia per la sua posizione strategica ma contemporaneamente se dalle problematiche interne si passa a quelle estere in questo momento quello che destra maggiormente l'attenzione è rappresentato dalla riforma del codice penale indonesiano che prevede sanzioni penali nei confronti di chi ha rapporti sessuali al difrori del matrimonio. Un aspetto questo che all'inizio nell'ambito mass mediatico faceva guardare la cosa con grande ironia ma che successivamente ha invitato invece a una riflessione profonda di come le situazioni possano cambiare, di come in questo caso lo Stato entri nella riservatezza, nella vita personale del cittadino. Sanzioni che andrebbero a colpire non soltanto i cittadini indonesiani ma anche quelli provenienti dall'estero mettendo in evidenza una grande preoccupazione per quanto riguarda proprio uno dei settori economici particolarmente importanti nel contesto indonesiano ovvero quello del turismo. In questo momento il governatore di Bali si è affrettato nel dire che poi alla fine nel contesto dell'accoglimento nessuno andrà a verificare la situazione dello Stato civile ma mettendo ulteriormente in risalto una questione ovvero che di fronte agli aspetti legati alla vita personale di fatto in una situazione di questo tipo si passa attraverso la benevolenza di qualcuno che non va a verificare la possibilità di applicare o meno una legge. Insomma aspetti che fanno riflettere che fanno riflettere in modo approfondito anche perché quanto accade in Indonesia trova sostanzialmente delle vicinanze con altre realtà nel contesto globale quali ad esempio la progressiva e sempre più pressante digitalizzazione della vita dei cittadini della Repubblica Popolare Cinese e che con grande preoccupazione un po' tutto il mondo e soprattutto quello europeo traguardando con grande preoccupazione e con la speranza che certi esempi non giungano nel vecchio continente. Per oggi questo è tutto.